Il problema di fondo è creare lavoro, dare la possibilità a tutti di potersi realizzare attraverso il lavoro e per questo serve un piano straordinario di investimenti sia sul piano delle infrastrutture materiali, strade, ferrovie sia sul piano delle infrastrutture sociali, asili, scuole, ospedali e allo stesso tempo serve finalmente cosa che manca da più di 20 anni nel nostro paese, una seria politica industriale che metta al centro la salvaguardia dell'ambiente e che metta al centro l'idea di una riconversione ecologica dei sistemi produttivi. Credo che sia questo il modo per affrontare la situazione, su questo serve senz'altro un ruolo del governo, dello Stato anche nel rapporto con l'Europa e serve anche che anche le imprese e gli imprenditori riprendano a fare investimenti nel nostro paese.